Senti, raccontacelo, come è stato possibile allora? Come è stato possibile che senza aver quel fisico lì hai ottenuto quei risultati? Io quando ho intrapreso questo viaggio, perché poi ogni stagione agonistica, ogni momento della vita di un individuo che fa queste scelte, è come un viaggio. Allora tu quando intraprendi il viaggio porti degli obiettivi. Io quando mi trazzerì a Formia avevo deciso di provare a diventare campione dell'atletica, a non fare scelte sbagliate per quanto riguarda la mia persona e poi prendere un titolo universitario. La strada l'avevo capito subito. Io mi allenavo 5 ore al giorno, mi allenavo per 350 giorni l'anno. L'ho fatta questa vita per quasi 20 anni. Non mi sono mai strappato, ho strappato muscolarmente. Non ho mai saltato un evento importante. Sono stato sempre presente negli eventi che contano. Ho vinto di più spesso personalmente. Però guardando un po' dietro alla carriera sportiva, se potessi tornare indietro, invece di 5 ore al giorno, mi allenerei 8 ore al giorno. E anche di più. Perché quello è il segreto. La superficialità non porta da nessuna parte. Chi lavora, prima o poi, porta a casa qualcosa. Raccoglie qualcosa. Tu pensa che quello che poi è diventato il mio allenatore, Vittori, la prima volta che mi vede in una gara ad Ascoli Piceno, mi vede il magrolino, io pesavo 68 kg. Mi disse, che ci devo fare con questo? Questo è di mangiare a bistecca. Dissi, come dire, non si può tirare fuori. Io invece lì, capito, mica mi sono scoraggiato. Torni a Barletta, mi allenai, mi allenai. Io mi allenavo di nascosto a Vittori. Quando non c'era, lui mi andava a allenare. Il segreto è quello là. Non c'è altri segreti. Qualsiasi cosa uno deve fare nella vita, se non lavori, raccogli niente. Quindi la perseveranza e la forza di volontà sono state sicuramente la tua forza. Passione, passione, cuore, amare, credere in quello che fai. E una voglia matta di migliorare. Di migliorare. Chi non ha questa voglia di migliorarsi fa poca strada. Avevo questa voglia di migliorarmi e quindi farlo con la strada che noi conoscevamo. Senti, e quando tu hai iniziato? Avevi in testa di diventare un così grande campione? Quando è che hai iniziato a ragionare in quei lotti? Io vidi una gara in televisione, la vincere Tom Smith l'Olimpia del 68. Era un sogno, un giorno provare a diventare come lui. Ci ho messo 11 anni, 3.000, non so quanti giorni sono. Sulla stessa pista vado a battere il record di Tom Smith. Lui aveva vinto le Olimpiadi. Un record che poi è durato quasi 17 anni. Ancora record Europa, che ancora oggi è il record Europa. 1972. 1972. Adesso su questo numero la RAI ci fa un film adesso. A gennaio esce. Non sei sicuro. Bisogna porsi degli obiettivi, dei traguardi, dei raggiungi. Io volevo vincere i giochi olimpici, fare un record del mondo e inseguire questi risultati. Io ho avuto la forza di provarci sempre, mai mollare, perché ho fatto 5 Olimpiadi. Quando non sei in condizioni, non ci sei, cambiare. Allora lì devi fare affidamento sulla massima concentrazione, su quelle che sono le tue qualità, su quelle che sono le tue possibilità. E dai poco tempo a disposizione. Ecco, quando ci sono dei problemi, questo è un suggerimento, risolverli all'inizio. Non farli diventare grandi. La vita non è tutto lineare. Cioè, i problemi devono esserci, i fallimenti devono esserci. Attenzione, mai considerare un fallimento come tale. Fallimento va preso come, va considerato come esperienza. Perché anche una cosa negativa ti può portare dei risultati positivi. Io ho fallito un'Olimpiadi nel 1976, arrivai quarto e dovevo vincere in quelle Olimpiadi, perché poi l'ho dimostrato. E io da quella sconfitta, da quel fallimento, da quella esperienza, sono ripartito per costruire i quattro anni più belli della mia carriera agonistica. Forse, se avessi vinto in quella circostanza, non avrei vinto i due titoli europei a Praga, non avrei stabilito i 12 record a Città del Messico, da quel record del mondo. Non avrei vinto ancora quell'Olimpiadi così come è stata vinta. Quindi, attenzione, nel viaggio che noi facciamo, di qualsiasi genere, il fallimento ci deve essere. Perché il fallimento aiuta a far crescere l'individuo, aiuta a far crescere la persona. Sai, si vivono queste cose con grande intensità, con grande passione, con grande cuore. Se uno mette il cuore, nelle cose non si fa, non si fa niente. Avevamo la cultura del lavoro. Senza questa caratteristica non avrei fatto... Giorni fa gliel'ho ricordato al mio allenatore, ho detto, deve ricordarsi sempre una cosa, che ero io che gli chiedevo di lavorare di più. Non era lei che mi faceva lavorare. È difficile trovare uno che ti chiede di lavorare di più. Ho sentito delle leggende sui tuoi allenamenti, che correvi con i sacchi di sabbia dietro, un po' come Rocky. Come erano i tuoi allenamenti? Io ho cominciato sfidando macchine di grossa cilindrale. Sfidavo Porsche, Alfa Romeo 1750, ma non macchina macchina, macchina uomo, a piedi, io a piedi e la macchina, sui 50 metri. E vincevo sempre, sui 50 metri vincevo sempre. Ma è vero, ogni tanto mi venivano a chiamare verso le 11, mezzanotte, e loro mi dicevano, guarda, è arrivata una macchina, una Porsche da Brescia, che vuole sfidare. Io stavo a dormire, stavo dormendo. Avevo il problema dell'interrogazione il giorno dopo, allora mi scendevo. Ah, perché nel frattempo tu studiavi? Sì, sì, studiavo. Allora mettevo lì, facevamo queste sfide, scommettevo, non io. Io a me mi davano, come si dice, asino di fatica, mi davano 500 lire di premio. 500 lire, un panino, queste cose qua, cinema. E ho cominciato così. Sì, poi... Poi hai intuito che essendo più veloce della Porsche, delle potenzialità le avevi, insomma. Sì, sì, avevo delle potenzialità. Peccato che non ci aveva creduto subito Vittore, poi ci ha creduto. Poi, sai, allenarsi... Io sono conosciuto ancora oggi come colui che si è allenato di più al mondo. Io butto in rete una seduta di allenamento mio, una giornata, eh. Si spaventano. Allora il mio allenatore disse, a coso, questo è Marchigiano, Vittore. Questo me ne avevo fai in un giorno, non in una settimana. Non è che t'ha visto allenare, ha visto il programma. No, ma mi conoscevano, mi conoscevano. Chi si allenava con me stava male. Stava male, veramente. Stava male. Chi si allenava con me, sto Vittore, sai quante ne ha rotti per farle allenare con me. Poi è venuto lui con la Vespa. Poi mi tirava lui con la Vespa. Senti, immagino che curassi molto l'alimentazione, fossi molto attento a tutti questi piccoli dettagli. Guarda, ti racconto un aneddoto. Mi hanno invitato a un convegno sull'alimentazione ad Avellino. Avevano invitato un sacco di medici, tutti specializzati sull'alimentazione. Allora, ognuno nella relazione spiegava 22 grammi di carboidrati prima dell'allenamento, 36 dopo l'allenamento. Quindi spiegavano tutti questi fabbisogni prima, dopo l'allenamento. E mi ricordo che a quel convegno, quando arrivai, tutti gli amici miei si salutavano. Ah, ma mia come va? Tutti qua. Si erano creati una professione su questo modo di spiegare e indicare. Arrivai, io fece la mia relazione e dovevo spiegare l'alimentazione quando stabilì i record del mondo a Città del Messico. Quella settimana io stabilì 12 record tra mondiale, europei e nazionali. Allora, quando partiva la squadra azzurra, si portava dietro una forma di parmigiano reggiano, pasta italiana e dei pelati, scatole di pelati. E quindi noi mangiavamo, abbiamo mangiato lì per 20 giorni, pasta al pomodoro, col parmigiano che tu prendi, tagliavi la forma, diventava due mezze forme, tu prendevi il parmigiano, lo grattugiavi, condivivi, poi come terzo il formaggio, il parmigiano. Una fetta di carne, acqua, mineral, perché lì l'acqua fa male, e noi per 20 giorni abbiamo mangiato così. Verso la fine, il parmigiano all'interno delle due mezze forme era finito. Allora, per condire la pasta, tu cucinavi e buttavi la pasta nella mezza forma. Era più saporita, era più saporita, diventava più saporita. Allora, ho raccontato questa esperienza, ho finito il convegno, non mi ha salutato più nessuno. Non mi ha salutato più nessuno. Mi andavano scansando tutti, mi evitavano, mi erano diventati un lebroso. Pensa che io ho fatto il record italiano allievo a Salerno, 69, 18, a mezzogiorno avevo mangiato tre piatte di pasta al forno, perché a Salerno fanno la pasta al forno che è la fine del mondo. Prima della gara è notoriamente consigliata. Alla fine del mondo, sono andato in pista, ho fatto 18, era il record italiano allievo. Ho detto, mazza qui, la pasta al forno, è buona Salerno. Alla fine è così. Cioè, puoi mangiare quello che vuoi, però se non c'hai niente dentro, puoi fare quello che vuoi. Senti, una domanda seria, in me, seria. Chi è un campione, secondo te? Se tu dovessi definirmi un campione, com'è un campione? Quali sono le caratteristiche di un campione tale? Allora, un campione nello sport è un campione che è in grado di saper vincere anche nella vita di tutti i giorni. E non è facile. Grazie. Applausi.